Perché sono cento anni, cento anni che danno vita al ferro. Io sono Carlo De Biasio, io ho cominciato nel 1986 quando avevo 14 anni, oggi non ho 52 quasi, sono un po' di anni ormai, sì. I nonni hanno iniziato anni venti, appena dopo la guerra, negli anni trenta hanno costituito questa casa, questa officina che avete visto, che è ancora quella originale dei miei nonni. Innanzitutto ci vuole molta passione e poi riuscire a dare forma alle idee, alle nostre idee. Noi cerchiamo di prendere spunto dalla natura, quindi sia dalla fauna che dalla flora, facciamo degli animali, tipo i guffi, tipo i galli forcelli, i galli cedoni, le aquile. Poi adesso siamo noi, io e mio fratello Davide, che continuiamo questa tradizione, siamo gli ultimi. Al momento siamo gli ultimi, poi vediamo se i nostri figli seguiranno la nostra strada, speriamo. Al momento siamo gli ultimi, poi vediamo se. Al momento siamo gli ultimi, poi vediamo se.